Si gioca a Gregnano, su un terreno ostico, tutte le partite in Campania e in particolar modo nel Napoletano presentano difficoltà oggettive. Il clima da quelle parti è caldo, molto caldo, e il Gera questo lo sa. Ma i biancazzurri quando si trovano dinanzi ostacoli danno il 100%. L'impegno e l'attaccamento alla maglia, lo abbiamo visto in queste prime giornate di campionato, non mancano. I gelesi dal tecnico Pietro Invantino, dopo il pari di domenica scorsa con il Gladiator sul neutro di Leonforte, vogliono ricominciare a vincere. E nel DNA dei giocatori gelesi. Siamo consapevoli del fatto che andare a giocare in Campania contro quelle squadre lì è tosta, soprattutto dal punto di vista caratteriale, perché siamo consapevoli che le squadre lì sono toste, anche se a volte non sono squadre attrezzate tecnicamente, però sotto l'aspetto della voglia, della grinta e della cattiveria danno del filo da torce. Noi affrontiamo sempre con la massima umiltà, metteremo il più cattiveria possibile per cercare di portare i tre punti a casa. 8 punti nelle prime partite, un bottino importante per il Gela dopo le vicissitudini di quest'estate. Sì, assolutamente, dopo le vicende che si sono verificate nei mesi estivi, diciamo che abbiamo fatto un grandissimo lavoro. Siamo vogliosi e vogliamo portare avanti questa striscia di risultati positivi. Noi c'eravamo visti nel ritiro di Zafferra Netnea e tu avevi detto ai nostri microfoni che questo Gela in questo campionato avrebbe stupito. Fino a ora i risultati ti danno ragione. Sì, sì, assolutamente. Sappiamo che il Gela è una piazza che vive di calcio, quindi qui o si fa bene o si fa bene. Noi vogliamo questo alla fine, quindi il Gela darà filo da torce da tutti, su questo non c'è dubbio. Per la partita di domani non sarà presente il neo arrivato in casa Biancazzurra, il difensore centrale Brugaletta. Il giocatore infatti al primo allenamento ha accusato un infortunio muscolare. Dunque con lo gregnano è probabile che scenda in campo la stessa formazione che ha giocato ultimamente. E domani ci sarà anche il vostro pubblico, i tifosi che non hanno mai fatto mancare il proprio sostegno, il proprio incitamento. No, no, assolutamente. La tifosieria di Gela, me l'avevano detto anche prima di venire qua, è una delle più calde che c'è in Sicilia e nel sud Italia. Quindi i tifosi non fanno mancare mai il loro supporto, anche se si tratta di affrontare chilometri e chilometri di distanza. Questa è una cosa che ci deve rendere assolutamente orgogliosi ed è una motivazione in più che ci spinge a fare bene, soprattutto per la gente che ci viene a vedere. Vai in campagna domani per vincere. Sì, sì, assolutamente. Il nostro obiettivo è quello sempre di portare tre punti a casa, assolutamente.